Musica Ciao a tutti, siamo arrivati a Carnevale, è il momento di iniziare a friggere i dolci e oggi facciamo la prima ricetta che è la più classica, anche la più semplice da fare, facciamo le frappe Vediamo gli ingredienti, sono semplicissimi e ce li abbiamo tutti in casa 2 uova, 240 g di farina 00, 40 g di zucchero, 30 g di burro fuso, un pizzico di sale, 2 cucchiai di grappa e poi naturalmente ci servirà un litro di olio adatto per la frittura Questo tra tutti i dolci di Carnevale è quello che faccio più volentieri perché primo per una questione di praticità, anche la sera quando esci dal lavoro se esci diciamo su un orario ancora abbastanza decente, chiaramente alle 6, alle 6 e mezzo tu riesci a farle pronte per cena è una ricetta molto veloce, è una ricetta che non ti fa sporcare poi chissà quante cose per farla e soprattutto è una frittura davvero veloce e non senti cattivo odore in casa perché tante volte quando friggi i dolci di Carnevale che sono così zuccherati poi quell'olio di frittura tu senti puzza anche 3-4 giorni le frappe non sono così, si fanno senza nessun pensiero vi dicevo non mettono pensiero perché è una ricetta molto semplice tutti lì fuori due uova, un po' di farina, un po' di grappa buona grappa, potete mettere il rum, l'avana, qualcuno mette l'anice quindi i classici liquori all'anice basta che chiaramente mettiamo un bel liquore forte che si sente e dà anche parecchio profumo dopodiché andiamo a lavorare questa sfoglia dolce che rimane anche abbastanza morbido come impasto e l'andiamo, questo era il segreto delle nostre nonne l'andiamo a tirare con la macchinetta per la pasta quindi la facciamo sottile, sottile chiaramente partiamo prima dalla misura 2 poi scendiamo, saliamo, voglio dire scusatemi quindi 3-4 fino a 5 fino alla misura 5 le facciamo sottilissime stese le nostre losanghe, le nostre sfoglie abbiamo due strade da percorrere tutte e due giuste o le facciamo belle esteticamente quindi prendiamo una bella rotella e le andiamo a fare tutte uguali magari una proprio perfetta una frappa perfetta oppure prendiamo la strada di far vedere a tutti che sono fatte in casa sono fatte espresse lì per lì e quindi più di tanto tempo non ce lo perdiamo l'unica cosa da fare chiaramente gli diamo una tagliata a rettangolo è quella di fare un taglietto centrale quindi con la rotella andiamo a tagliarla al centro perché questo permetterà in frittura di arricciarsi alla frappa farà fare anche più bollature insomma è un classico il taglietto centrale quello è necessario mettiamo a scaldare l'olio avete visto in un attimo si fanno queste mettiamo a scaldare l'olio come arriva a temperatura facciamo la prova dello stecchino iniziamo a calare le prime frappe ne mettete magari una alla volta per vedere se l'olio è a temperatura lo vedete subito perché sono delle sfoglie talmente sottili che risalgono immediatamente a galla fanno tutte bollature dovete rigirarla con la forchetta un paio di volte e poi mi raccomando velocità perché queste in un secondo bruciano e sono davvero sottilissime fatte così e vi assicuro è una frittura anche molto molto asciutta perché queste come le appoggiate su un po' di carta assorbente da frittura diventano immediatamente asciutte e croccanti sono davvero quasi come delle patatine fritte sono davvero croccantissime andiamo a friggerle tutte quindi mi raccomando accendete la cappa aprite la finestra friggete ma vi assicuro è davvero due uova come abbiamo fatto questa sera avvengono molte frappe perché così sottili ne vengono tantissime si fanno in... ma un'ora tutto non ce la vuole un'ora anche meno ora andiamo a condirle nel modo classico che si fa nella mia regione nelle marche quindi ve l'ho detto questa è proprio la ricetta tradizionale di casa mia con la kermes io lo metto a bollire con lo zucchero qualcuno mette anche un pochino di fecola di patate per farlo addensare un pochino di più ma con lo zucchero già fa un certo spessore diventa un po' caramello e quindi vedrete che le frappe tratterranno bene questo condimento licoroso che è proprio una caratteristica poi per renderle ancora più golose un pochino di zucchero a velo e queste spariscono in un attimo spero che le rifacciate e che mi facciate sapere come sono andate arrivederci al prossimo video grazie grazie grazie